No, scusa, lo voglio mostrare perché non l'ho mai vista sta cosa. Sì, poi diciamo che è il bis. È il bis, quindi siamo già tutti più tranquilli. Uno e poi l'abbiamo già mangiato. Questo è secondo. Aspetta, scusa, vuoi mostrare la carta? Solo perché così... No, così, vero. Eccezionale, vai. Per vedere la preparazione. Molto facile. Si taglia a rombi. Un po' di tradizione della lunigiana New York. È una cosa squisita di cui uno non poteva immaginare. Poi la salsa di noci fatta oggi. Con? Con, beh, questa è raddoppiata, quindi ci sono 80 grammi di parmigiano grattati. 100 grammi di noci grattate e 5, no, 8 decilitri di panna. Allora, addirittura un decilitro, vabbè. Eh, però è... Ma Laura, ti manca Baby Shopolic? No, ce l'ho. No, è la sua boy che è bella. Ah, no, ha ragione, non è la Baby Shopolic. Porca te roba! Perché c'è il Baby Shopolic e poi è la sua boy che è bella. No, prima c'è la sua boy che è bella, poi c'è il Baby Shopolic. Eh sì. E io le manca uno. Eh sì. Eh sì. Tra l'altro ti avevo iniziata io, vero, a... Sofì, Kinsella? Sì. Sì, ma non è che sono nervosa a leggerla, eh? Perché una volta che la leggo penso, ma chi è quel deficiente di un uomo che tira su una stronza del genere, che non fa un cazzo nella vita, spende soldi e lui ancora gli dice che la ama? Cioè, in quale mondo potrebbe esistere una cosa del genere? Claudio, hai sentito che moralità? Anch'io! Lo dice per te, lo dice per te. No, ma non lo pensi, ma non lo leggi. Non lo pensi mai, a quanto... Cioè, ok che è una novella e che c'è tra l'altro Pisho, però cazzo io gli spaccherei la testa, stasi vecchi. No, beh, per me è figa, fa troppo ridere, quindi a lei è consentito tutto. No? Le hai letti gli altri? Sì. Ma gli altri, gli altri? Gli altri è sempre il suo e che non... Esatto, non della serie. Mi piacciono di più. Anche a me mi piacciono di più. Infatti per quello che non ho... Questo è un po' grande. Ce l'hai l'ultimo, quello tipo Your Number, è Your Number? È molto carino. Sì? Sì. Ma è troppo in domani all'aeroporto perché è veramente molto carino. Mi sa che me lo scarico sull'iPad, ormai ho questo bruttissimo. Ah, ok. Ma la legge molto. Fai sempre davanti, no? Le cose qui... No, questo è un gesto che tutte le donne di quella zona sanno fare, diciamo. No, probabilmente è molto meglio di come lo sto facendo io. Vabbè, comunque, insomma, in un modo o nell'altro... Vale lo stesso. È un classico. Scusa, Claudio, e come si chiamano quelle cose che mangi tu in Liguria, in quel paese? Le fanno sotti. Ah. Le fanno anche loro con il ragù di noce. E come si chiama quel paese dove le fanno? A Moneglia. 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 Se arrivo a sotto, adesso è una galleria. Del treno. E ma dal buco, non al posto. No, lì vede. Vabbè, ho due cose da fare se vado in Italia. Allora, mi è rimasto adesso il messaggio. Ah, sì? Incredibile. Un'ora dopo. Che bontà, Laura. Mettili tutti. Mettili tutti. Certo, certo. Ma, allora, mi ha detto quella strontola che è venuta in puntata. Che è venuta? In puntata. Cioè? Che ha fatto casting di nascosto. Ah, sì, certo. Allora, l'autrice mi fa... Tra l'altro, posso dire una cosa? Che all'inizio, che lei diceva... Ma scusa, ma se noi non le lo diciamo, posso mandarle? Lei non lo sa e io mi presento. Le facciamo la sorpresa. In realtà, lei cercava di convincere anche me a fare la sorpresa all'inizio. Ma l'autrice mi diceva... Conosso qualcuno. C'era una mia amica che voleva venire, però... Meglio di no, anche perché comunque si sa che comunque ha già fatto ridurre.